E per tutti ragazzi io sono Bungola01 In questo nuovo video andremo a cercare di editare Colette a livello, al grado scusate, 10 Mi raccomando però se non l'avete ancora fatto iscrivetevi tutti, attivate la campanina e Lasciate immediatamente un bel like, mi dà 5 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 Spero che l'avete fatto Io ho selezionato la mappa singolo, fantasma Perché fra qualche giorno se ne andrà via Quindi la proviamo e andiamo subito con una partita Ok, è più difficile perché abbiamo subito Che abbiamo invitato un'altra volta la Piper Non questo power up E no raga, siamo subito morti Vabbè, 0 coppa persa, andiamo con la prossima partita Tanto qua abbiamo subito un ticket davanti Mi sembra che l'abbiamo calcolato 8 parole rimanenti Speriamo che quel power up non li prenda Poccio, eccolo qua, infatti L'abbiamo hittato E anche che l'abbiamo intanto quella scelta è andata giù Esatto, anche Nita siamo già in scontro finale Bella questa cassetta Vabbè raga Se ha meno di vita Ha meno vita di me È morto Non lo so A benzo ne aspettiamo Che passi magari Stiamo con girare i pollici Eccolo là Guarda che more Aspetta Vediamo se li facciamo far evitare così Ma però se non dura Oh, è dura troppo Forse l'abbiamo anche lenta Aspettate però Facciamo così E l'abbiamo killato Abbiamo una Un'altra vittoria Per noi E l'abbiamo già portata Al grado 10 E siamo anche 100 vabbia punti stellari E anche 5 mecha box Vi ricordo che quando arriveremo a 15 Big box Andremo Ad A fare un box opening E vi ricordo che è uscito Un video È uscito il video del brawl talk In cui vi mostrano il nuovo Brawl pass Eccolo qua Il brawler di ghiaccio Lo andremo a esaminare In un prossimo video Mi raccomando ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E se non siete iscritti Iscrivetevi tutti E anche attivate la commenta Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.